Ciao ragazze, oggi video haul misto fritto, vi mostro infatti sia prodotti beauty, cura della persona, viso, corpo, capelli e quant'altro sia prodotti make up, trucco vero e proprio negli ultimi due mesetti all'incirca mi sono data alla pazza gioia e ho acquistato diversi prodotti in realtà sono più o meno tutti i prodotti che mi servivano, a parte qualcosina di make up, a parte qualche sfizio ovviamente e ci tengo particolarmente a condividerli con voi perché ci sono alcuni pezzi molto interessanti, alcune chicche che voglio assolutamente segnalarvi allora partiamo subito con le salviettine struccanti perché nell'ultimo periodo, grazie anche ai vostri consigli, ho comprato diverse confezioni di salviette struccanti partiamo subito da questo paccozzo gigante di salviettine Wicon, sono 72 pezzi e sono le salviettine struccanti bifasiche, silky touch per viso e occhi lenisce e idrata e rimuovono anche il trucco waterproof, hanno praticamente un doppio lato, uno con micro rilievi che strucca in profondità e l'altro liscio per andare a detergere in modo delicato, mi piace tantissimo questa apertura barra chiusura, ermetica tra virgolette perché non fa seccare le salviette presenti all'interno ma fa sì che rimangano sempre belle imbevute e pregne di prodotto, queste costano 3,90 e le trovate appunto da Wicon poi altre salviettine struccanti che ho deciso di acquistare sotto vostro consiglio sono queste qui, queste sono del marchio Cera di Cupra, ricetta di bellezza e sono le salviette struccanti viso e occhi con estratto di miele e aloe senza alcol e sono 25, queste le ho comprate da acqua e sapone due confezioni per 1,40 euro, quindi 70 centesimi a confezione, questo è il pacco chiuso ma le sto già utilizzando e mi piacciono davvero tantissimo ottimo ottimo acquisto, grazie al vostro consiglio, poi sempre grazie al vostro consiglio ho comprato queste, l'ultimo pacco di salviette che ho comprato le salviette struccanti viso e occhi di Fresh & Clean, queste sono 25 per pelli normali con latte di orchidea 4 azioni anti-smog, idratante, emolliente, pelle luminosa e anche queste le ho comprate in doppia confezione da acqua e sapone praticamente il 2x1 e anche queste le ho in circa 1,40-1,50 due confezioni e queste non le ho ancora utilizzate, sono ancora belle chiuse perché adesso insomma sto utilizzando altre confezioni di salviette poi andiamo avanti un pochino a random perché praticamente ho riunito tutti i prodotti all'interno di questo paccozzo Douglas e adesso pian pianino li pesco e ve li mostro tutti innanzitutto vi mostro questo che è praticamente un regalo della Befana, me l'ha regalato mia zia, mia madrina anzi è un prodotto, un bagno doccia avvolgente alla rosa, completamente bio del marchio Amerigo fatemi sapere se conoscete questo marchio perché io non l'ho mai sentito con estratto bio di rosa, sono 250 ml questa è la confezione, l'ho già snasato, annusato e ha un profumo buonissimo di rosa poi lo sapete, adoro la rosa è 250 ml ma non so dirvi il prezzo perché appunto è un regalo ma credo sotto i 10 euro poi andiamo avanti con i profumi perché nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi ho acquistato diversi profumi e diverse acque profumate questo ve l'ho mostrato tantissimo tempo fa perché ormai l'ho comprato sicuramente due mesi fa ve l'ho mostrato su Instagram se non mi seguite su Instagram fatelo 91martinas perché li posto continuamente praticamente almeno una foto al giorno e vi tengo sempre aggiornate ed è appunto questo profumo di Yves Rocher in edizione limitata natalizia questo alla mela caramellata sono 100 ml, l'ho pagato 10 euro come vedete non l'ho utilizzato tantissimo perché volevo mostrarvelo però è davvero squisito è un profumo molto molto dolce e si sente tantissimo la nota insomma della mela ha anche una buona durata perché l'ho utilizzato quelle 3-4 volte posso dirvi che ha una buona durata non è una durata eccellente ma insomma per il quantitativo per il prezzo che ha è sicuramente una buona durata e magari per il prossimo anno ve lo consiglio poi sempre per quanto riguarda i profumi anche questo ve l'ho mostrato su Instagram finalmente ho comprato il mio primo profumo l'erbolario questo qui io ho deciso di acquistare ambra liquida questo è un profumo, un'acqua di profumo e sono 100 ml praticamente questi da 100 ml costano 27 mentre quelli da 50 ml 21,50 questo costa appunto 27 però l'ho comprato in una erboristeria che praticamente stava facendo il 10% di sconto sui profumi l'erbolario quindi l'ho pagato all'incirca 24 euro questa è la confezione stupenda e il profumo è davvero qualcosa di meraviglioso non è un profumo secondo me che piaccia a tutte quindi vi consiglio di annusarlo perché è bello bello intenso bello forte l'ho già provato un paio di volte e ha un'ottima durata davvero una durata eccellente e si fa sentire bello importante e questo è appunto il mio primo profumo l'erbolario il primo credo di una lunga serie vi consiglio di provarli questi profumi perché oltre ad avere tantissimi profumi disponibili hanno anche un'ottima qualità e un'ottima durata dura davvero un sacco di ore non me lo aspettavo ma insomma vale sicuramente la spesa poi sempre per quanto riguarda i profumi ma nello specifico le acque profumate nell'ultimo periodo ho comprato ben tre acque profumate del marchio Avon queste sono da 100 ml sul catalogo le trovate tra i 2 e 3 euro io le ho comprate in offerta 1,95 euro ho comprato questa qui alla vaniglia e al sandalo l'ho già utilizzata ed è buonissima queste sicuramente non hanno un'ottima durata ma insomma come profumini da tutti i giorni vanno più che bene poi ho comprato questa che è praticamente al vediamo se trovo una scritta al gelsomino ancora non l'ho utilizzata e questa alla magnolia anche questa ancora in tonza sicuramente le utilizzerò a breve poi andiamo avanti sempre parlando di skin care cura della persona hair care vi mostro uno shampoo questo qui della Winnis anche questo ve l'ho mostrato su Instagram praticamente Winnis ha creato una linea anche se piccola riprodotti ecco bio per la cura della persona tra questi lo shampoo questo è lo shampoo ipoallergenico per pelli sensibili per cute sensibile alte verde e addirittura certificato Icea quindi ha un ottimo inci è anche testato al nickel cobalto cromo capelli normali sottili e colorati sono 250 ml questo l'ho pagato davvero poco sicuramente meno di 3 euro 2,80 2,70 ancora non l'ho utilizzato però vi consiglio di dare un'occhiata c'è lo shampoo il sapone mani il sapone intimo e anche qualcos'altro che adesso non mi viene in mente e insomma vi consiglio di dare un'occhiata perché sono dei prodotti facilmente reperibili e con ottimo inci perché certificati Icea poi sempre d'acqua e sapone ho trovato questa in offerta l'acqua micellare per pelli sensibili di Garnier questa sicuramente non ha un buon inci però io solitamente l'acqua micellare vado poi a risciacquarla con un detergente per il viso quindi non rimani a contatto con la pelle del viso acqua micellare tutto in uno pelli sensibili strucca, deterge, lenisce qui c'è scritto senza risciacquo ma io la risciacquo viso, occhi e labbra maxi formato 400 ml in offerta l'ho pagata soltanto 3,50 euro e visto che ne sento parlare sempre bene e ovunque ho pensato di acquistarla e di testarla poi sempre per quanto riguarda la skin care cura del viso ho comprato una nuova maschera per il viso all'argilla questa all'argilla verde propoli salvia e acqua di amamelis di Anthos questa è completamente bio ottimo inci sono 100 ml l'ho pagata intorno ai 6-7 euro da profumo di bio in via Baccaredda se vi interessa a Cagliari vi mostro appunto la maschera che è di questo color verde proprio argilla verde l'ho già utilizzata e ve la consiglio perché è un'ottima maschera purificante riequilibrante e dermoriequilibrante ottima se avete una pelle mista grassa e impura con imperfezioni l'ho utilizzata 2-3 volte e ogni volta mi lascia il viso bello asciutto quindi assolutamente va a togliere il sebo in eccesso ma allo stesso tempo lascia il viso bello morbido e idratato pronto per la crema viso poi vi mostro rapidamente gli acquisti che ho fatto diversi mesi fa perché li ho fatti con il Black Friday da Sephora con il 20% di sconto ne ho approfittato e ho comprato alcune cosine che stavo puntando da un po' di tempo ho comprato innanzitutto questi due kit mini kit di Too Faced questi qui ho visto che sono andati a Ruba queste erano praticamente le ultime due confezioni disponibili nello store unico store in tutta Sardegna che c'è a Cagliari e insomma li ho comprati subito perché mi incuriosivano appunto della Too Faced costano 12 euro a prezzo pieno ma con il 20 li ho pagati 10 qui ad esempio c'è la mini size di mascara Better Than Sex questo qui e la mini terra la Chocolate Soleil bronze ve li mostro molto rapidamente ma ancora non posso dirvi nulla perché ancora non li ho utilizzati questa è la mini terra carinissima e poi abbiamo il mascara mini size questa qui insomma secondo me è un modo molto carino per provare dei prodotti costosi a un prezzo sicuramente inferiore e poi abbiamo quest'altro kit sempre 12 euro ma 10 scontato con mini size della Melted nella colorazione Peonia e del blush questo qui nella colorazione Justify My Love e sono praticamente dei rosa Barbie rosa carne molto carini e vi mostro appunto la mini size della Melted questa qui Peonia e poi abbiamo il blush questo l'ho utilizzato soltanto una volta carinissima la confezione così piccolina e mi sta piacendo davvero tanto sembra davvero un ottimo prodotto e poi sempre da Sephora ho comprato i famosissimi pannetti di Human and Kind questi sono famosissimi questi pannetti qui che servono praticamente per pulire per struccare il viso sono morbidissimi e sono due di questi per 7 euro però con il 20 li ho pagati 5 euro sono morbidissimi e non vedo l'ora di utilizzarli magari anche come alternativa ai dischetti di cotone questi si possono lavare e riutilizzare quante volte vogliamo e insomma mi hanno incuriosita tantissimo e con il 20% di sconto li ho portati a casa poi andiamo avanti molto rapidamente con un altro acquisto anzi questo è un regalo perché me l'ha regato mia madre qualche mese fa e sto parlando di questo kit di Pupa kit labbra perfette c'è praticamente un rossetto colore puro della linea AIM di Pupa e una matita contorno labbra sfumabile della linea True Lips questa l'abbiamo trovata da acqua e sapone questa confezione da acqua e sapone in offerta per 10-11 euro e secondo me è un ottimo prezzo perché 10-11 euro costa soltanto il rossetto la colorazione non ve l'ho detta è la 416 sì la Dark Plum 416 Dark Plum e abbiamo la matita per labbra e il rossetto che adesso vi mostro perché merita è un colore bello scuro bello intenso perfetto per questo periodo guardate che roba ve lo mostro anche swatchato molto molto rapidamente è un bel color prugna violaceo davvero molto scuro questo qui e me ne sono subito innamorata e vi mostro anche la matita a fianco che è ovviamente della stessa colorazione eccoli qui sono stupendi ancora non li ho utilizzati perché appunto aspettavo di registrare questo video haul ma sicuramente vi farò sapere che cosa ne penso per gli amanti dei colori scuri delle labbra scure questo secondo me è un kit da avere e ha sicuramente anche un ottimo prezzo poi vi mostro anche due acquisti Nabla della collezione artica uscita se non erro prima di Natale io di questa collezione di Nabla ho comprato soltanto due pezzi quelli che mi hanno colpita maggiormente anzi tre pezzi perché ho comprato anche la palette questa qui nera tutta sbrillucicosa tutta glitterata e all'interno c'è un altro acquisto della collezione questo ombretto questo qui che sicuramente avete già riconosciuto perché è famosissimo water dream che è praticamente un ombretto top coat dall'effetto bagnato e dona tantissima luce perché l'ho già provato applicato sia da solo sia sopra altri ombretti è davvero stupendo ed ha proprio quell'effetto glow bello bagnato e bello luminoso questo in sconto l'ho pagato all'incirca 6 euro forse questo costava 7 euro e l'ho pagato 6,50 mentre la palette 5 euro 5 euro e qualcosa e poi altro pezzo che mi avete visto indossare spesso nelle foto di instagram è un rossetto uno dei nuovi diva crime questa è la colorazione cosmic dancer che io amo follemente anche questo ve lo mostro molto rapidamente è il mio primo rossetto nabla è il mio primo diva crime mi piace tantissimo anche la confezione questo in sconto l'ho pagato tra i 10 e 11 euro e questa è la colorazione anche questo è un colore bello scuro e bello intenso ed è praticamente questo color direi rosa malva bello bello carico e bello intenso vedete eccolo qua sono dei rossetti belli scriventi l'ho già utilizzato diverse volte e vi posso dire che ha anche un'ottima durata si fa insomma le sue 5 6 7 ore poi dipende insomma se mangiate bevete tende anche a svanire però ecco dura abbastanza le sue 5 7 ore se le fa tutte e sicuramente acquisterò anche altri rossetti diva crime di nub le ultime cosine che vi mostro sono praticamente gli acquisti che ho fatto dal sito douglas perché praticamente c'erano le spese gratuite ma queste ci sono sempre sopra i 25 euro e in più un bel 25% di sconto quindi che cosa fai non ne approfitti io ne ho approfittato perché volevo comprare lei ovvero la Cocoa Blend questa palette di ombretti di Zoeva e in più per raggiungere le spese gratuite ho comprato ben due pennelli sempre di Zoeva partiamo dalla palette questa l'ho pagata davvero poco perché normalmente costa già poco intorno ai 17 18 euro ma con lo sconto l'ho pagata praticamente 14 euro che è sicuramente un affare ve la mostro rapidamente è praticamente questa palette dei colori naturali ma ci sono anche dei colori un attimino più particolari ditemi se non è meravigliosa ci sono dei colori stupendi questa l'ho provata già un paio di volte e vi dico che mi ha stupito in positivo perché gli ombretti sono belli scriventi poco polverosi e belli duraturi magari ve ne parlerò in seguito in qualche video dei promossi e bocciati e poi vi dicevo ho comprato due pennelli perché mi servivano e ho comprato questo qui da correttore perché mi serviva un pennello da correttore per il contorno occhi ed è praticamente il numero 142 il concealer buffer ed è appunto questo qui bello cicciottone perfetto per il contorno occhi anche questi costavano poco li ho pagati sui 6-7 euro scontati e mi piace anche il fatto che danno in dotazione questa pochettina e poi l'altro pennello che ho comprato è famosissimo perché si tratta del 227 lux soft definer o lux soft definer questo qui praticamente è da sfumatura per la piega dell'occhio 227 ed è il dupe del 217 di MAC ovviamente ad un prezzo decisamente inferiore perché ve l'ho detto questo l'ho pagato all'incirca 6-7 euro così come l'altro in sconto perché normalmente stiamo sui 8-9-10 euro ok ragazze questo è tutto questi erano gli acquisti beauty e make up dell'ultimo periodo fatemi sapere che cosa ne pensate e che cosa avete acquistato voi nell'ultimo periodo aspetto i vostri commenti qua sotto un bacio grande e alla prossima ciao ciao